Buongiorno Filippo Diodovici dalla sala operativa di AIG di Milano. Mercati azionari vicini alla parità, forti movimenti sul comparto bancario, sulla scia dell'incertezza degli addetti ai lavori sui risultati degli stress test di Erolandia effettuati a BC e EVA. Soprattutto è Banca MPS che evidenza i guadagni maggiori. Crediamo che gli acquisti siano al momento legati alla speculazione. Solamente domenica avremo le cifre ufficiali. Italy 40 che mette pressione alla resistenza di brevissimo periodo a 19.500 punti, il cui superamento creerebbe i presupposti per un allungo in direzione di 20.000, livello strategico anche in ottica di medio termine. Forte volatilità sugli indici, mentre sembra ridursi la volatilità sul forest con il cambio euro-dollaro che nelle ultime due sedute è rimasto molto vicino a quota 1,2640. Con questo è tutto, buon trading.